È possibile vivere grazie alle piante e all'agricoltura? Da grande vorrei stare sempre in mezzo alla natura e imparare a riconoscere tutte le piante. Se da grande mi occuperò del mio campo, farò solo quello che mi piace e così non lavorerò mai. Permetteteci di entrare nei vostri pensieri e di mostrarvi una cosa. Sapete? Fin da quando eravamo bambini abbiamo sognato ad occhi aperti anche noi di vivere a contatto con la natura grazie alle piante e grazie all'agricoltura. Gli anni passavano e sapevamo di essere gli unici artefici del nostro futuro. Cresceva in noi la consapevolezza che non avremmo mai voluto una vita che non ci soddisfacesse appieno. La decisione più coraggiosa che abbiamo preso? Inseguire il nostro sogno per creare qualcosa di nuovo e riconnetterci con la natura. Anche se intorno a noi nessuno credeva veramente, noi tutti ci scoraggiavano e anche se percorravamo chilometri e chilometri non trovavamo mai qualcuno in grado di darci delle informazioni che fossero realmente utili. Lavoravamo al bar dei noni di Vale per pagare gli studi e per pagare anche gli studi privati che portavamo avanti parallelamente agli studi universitari. E i nostri risparmi infatti venivano investiti tutti, ogni singolo centesimo in formazione sia in ambito agricolo che in ambito imprenditoriale. Poi un giorno... Macchina distrutta e risparmi sufficienti per ricomprarla. Eravamo praticamente finiti e sentivamo il peso della sconfitta. Lavorare al bar era l'unica certezza. Forse l'unica? Ma ogni volta che il fallimento era vicino, 9 10 facevano ritrovare la strada e ritornare a galla. Così abbiamo tirato dritto come un treno in corsa senza fermate. Abbiamo fatto i primi test con la coltivazione di zafferano. Il campo in pratica era diventato il nostro laboratorio a cielo aperto. E soprattutto gli errori che abbiamo fatto ci hanno fatto capire veramente che era possibile rendere tutto sostenibile al 100%. Così, senza nemmeno rendercene conto, abbiamo posto le basi di quello che poi è diventato il nostro metodo innovativo di coltivazione. La nostra missione brillava nei nostri occhi, quella di rivoluzionare e consapevolizzare il mondo agricolo con un metodo sostenibile al 100%. Anche le difficoltà incontrate fin dall'inizio ci hanno spinto a voler fare di più. Il mondo agricolo è tanto bello quanto strano. Segreti, misteri, difficoltà nel reperire le giuste informazioni ci hanno spesso inchiodati e fatto perdere tempo e soldi. E allora ci siamo promessi che tutto ciò non avrebbe mai dovuto rappresentare un muro insormontabile per le altre persone. Eravamo lì per cambiare le cose, volevamo creare la scuola, quella scuola che in ambito agricolo mancava. E vi assicuro che è stato molto molto più difficile creare un'azienda di formazione che un'azienda agricola. E non solo, vogliamo anche combattere la disinformazione dei media. Perché da oltre 50 anni i problemi nel settore agricolo sono qualcosa di agghiacciante e nessuno ne parla veramente. Per esempio i cibi che si trovano anche nei supermercati o nelle bancarelle al mercato sono pieni di conservanti, pesticidi, sostanze chimiche che diventano veramente un'esplosione all'interno dell'organismo delle persone. L'agricoltura intensiva distrugge oltre 30 miliardi di tonnellate di suolo fertile ogni singolo anno. E se ci aggiungiamo anche che la risorsa acqua è una delle risorse limitate che stanno scarseggiando sempre di più nel pianeta, la domanda è dove coltiveremo a breve? Dobbiamo veramente prenderci cura dei nostri terreni, ma quando le persone poi provano ad aprire magari un'azienda agricola la burocrazia che incontrano è troppo complicata. Un altro punto da considerare è che le persone magari hanno molta paura a lasciare quello che credono essere un lavoro sicuro per dedicarsi completamente a un'azienda agricola, ad aprire la propria attività nella propria campagna. E come ultimo punto i margini per le aziende agricole sono veramente sempre più ridotti al minimo se non allo zero. Ecco, ci rendiamo conto della gravità di questi problemi? Quando poi la realtà dei fatti è che il mondo dell'agricoltura, il mercato dell'agricoltura è un mercato miliardario se consideriamo che tutti mangiano e tutti mangeranno per sempre. Considerate che è un mercato arrivato a oltre 2,4 miliardi di euro crescendo del 25% negli ultimi 5 anni. Ma se continuiamo ancora a lamentarci, a dire che il cibo buono non si trova, a capire un'azienda agricola è soltanto un peso, senza pensare magari a un rimedio, senza trovare un rimedio al più presto, la realtà è che il mondo, il settore dell'agricoltura entrerà in una crisi dal quale sarà impossibile riemergere. Perché nel bene o nel male l'agricoltura andrà avanti comunque, ma si trasformerà sempre di più in un'agricoltura distruttiva, neanche intensiva. Per questo dobbiamo fare qualcosa il prima possibile. Cosa abbiamo in mente? Visto che il lavoro nei campi non è soltanto fatica come vogliono farvi credere, ma può trasformarsi in pura gratitudine e soddisfazione, vogliamo prendervi per mano e ovviamente aiutare voi e chiunque lo desideri a realizzare il vostro sogno agricolo, qualunque esso sia e qualunque siano le vostre situazioni di partenza e i vostri desideri. Perché crediamo che vivere serenamente grazie alle piante e all'agricoltura sia un diritto veramente di tutti. E lo faremo insegnandovi l'unico metodo veramente consapevole e sostenibile, che vi farà ottenere una rendita agricola e vi permetterà di prendere parte alla più grande rivoluzione di sempre in ambito agricolo. Tante persone hanno già preso la decisione di seguire i loro sogni e di farlo facendosi seguire da noi. E guardate un po' negli ultimi due anni qualcosa di quello che siamo riusciti a fare. L'anno scorso ho conosciuto Alessandria e Valentina e da lì sono cambiate veramente tante cose. Mi ricordo che ero andata alla Baite e gli ho detto, fia Rosi, guarda, ci sono questi ragazzi che secondo me veramente ci possono aiutare. Perché non avevamo mai fatto formazione. Era la prima volta. Però ringrazio veramente con tutto il cuore Valentina e Alessandro che mi hanno aperto veramente un mondo. Con i loro modi di fare e di dire le cose, veramente mi hanno portato in un mondo. Ho iniziato a fare posta. Grazie a questo sono partita. E lì è stato... Poi ho fatto due ricerche anch'io e ho scoperto che questi ragazzi esistono veramente. Lui è Alessandro e lei è Valentina. Noi siamo Alessandro e Valentina e portiamo avanti ogni giorno la nostra missione di consapevolizzazione nel mondo agricolo con la nostra azienda di formazione Ecosystem BSC. L'unica che dà informazioni di alto valore e di alto livello in ambito agricolo con cui aiutiamo le persone a crearsi una realtà agricola per vivere serenamente con le piante e l'agricoltura. Ma cosa facciamo nello specifico? Diffondiamo i segreti di un metodo che dopo quasi otto anni è diventato il punto d'inizio della più grande rivoluzione sostenibile di tutti i tempi e che ci permette di pensare alla realizzazione di un grandissimo sogno di vita, quello di creare un mercato di prodotti di elevata qualità dove i produttori possono vendere i loro prodotti al giusto prezzo senza essere più vittima dello strozzinaggio delle grandi distribuzioni. Un vero grande sogno da realizzare ma che riteniamo possibile perché il nostro è l'unico vero metodo che prende in considerazione la sostenibilità a 360 gradi. Cosa significa? Hai presente quando cerchi di lavorare il più possibile per avere risorse, per goderti la tua famiglia, le amici, le vacanze e poi ti accorgi di non avere abbastanza tempo, di essere sempre stressato e non avere nemmeno abbastanza soldi da mettere da parte? La senti questa frustrazione? Bene, la sostenibilità è portare in equilibrio tutte le aree della tua vita. La sostenibilità non è solo ambientale ma anche personale e aziendale. Significa quindi coltivare in modo consapevole per ottimizzare tempo, risorse e denaro ed avere più tempo libero da dedicare alla propria felicità. Stiamo quindi per svelarti qual è l'unico metodo in grado di portare in equilibrio tutte queste aree che ti permetterà di coltivare la tua vita. Ma prima, vuoi vedere che cosa abbiamo fatto per aiutare oltre 400 persone a realizzare il proprio sogno? Ecco, li abbiamo aiutati ad esempio ad utilizzare il loro balcone o piccoli spazi interni per avviare un'autoproduzione e soddisfare il fabbisogno di tutta la famiglia. Li abbiamo aiutati a utilizzare piccoli spazi ottimizzati al massimo ottenendo grandissime rese. Li abbiamo aiutati a triplicare i margini di vendita dei loro prodotti o dei loro servizi quando si hanno anche agriturismi per esempio. Li abbiamo aiutati a crearsi una rendita in cibo e in denaro per scongiurare ogni periodo di crisi poiché le crisi si ripetono ciclicamente. Ma soprattutto li abbiamo aiutati a vivere in stretto contatto con la natura in modo sicuro e consapevole. Quindi, sei curioso o sei curiosa di scoprire qual è questo mai visto e rivelatorio metodo? È il metodo BSC, Biosinergico Consapevole, che unisce tre aree fondamentali della nostra vita che sono il mindset, la biologia e l'imprenditoria. Indispensabili per creare equilibrio tra vita privata e business. E può essere applicato a qualsiasi tipo di coltivazione e riadattato alle tue esigenze. Ed è solo grazie a questo metodo che abbiamo creato da soli il nostro brand, lo specialista dello zafferano, con il quale da ben otto anni produciamo zafferano di altissima qualità e che vendiamo a ristoranti gourmet di lusso a prezzi tre volte superiore a quelli che si vedono sul mercato. Ad oggi in più coltiviamo anche tartufi e olio in modo completamente sostenibile e naturale. Siamo autori del libro Marketing Agricolo, diventato best seller al primo giorno di lancio e abbiamo oggi oltre 400 studenti che hanno capito che cosa significhi davvero coltivare in modo sostenibile. E dopo aver analizzato le situazioni di tutte queste persone sai cosa possiamo dirti? Che non esistono sfide in cui non crediamo. Sappiamo che il tuo sogno agricolo è realizzabile, qualunque esso sia. Per questo siamo pronti a seguirti per aiutarti a vivere la vita felice che hai sempre sognato. Perciò il tuo sogno è davvero coltivare la tua vita e renderla sostenibile a 360 gradi? Ecco se la risposta a questa domanda è sì, noi siamo qua per offrirti un percorso di affiancamento personalizzato dove ci incontreremo tramite delle consulenze private one to one con noi o con i nostri coach specializzati nell'aiutarti a capire come strutturare la tua azienda, come autoprodurti al meglio il cibo per la tua famiglia, come realizzare campagne di marketing per vendere i tuoi prodotti o servizi agricoli, offline e online, come gestire le tue finanze, quindi come muoverti a 360 gradi nel mondo agricolo. E soprattutto oltre ai nostri incontri avrai anche e sempre un supporto video tramite i nostri videocorsi, ne abbiamo fatti veramente molti in questi anni e avrai sempre un contatto diretto con la nostra azienda e un gruppo Facebook al quale puoi iscrivere e chiedere qualunque cosa perché è un gruppo privato di altissimo livello dove ci sono tutte persone come te che stanno coltivando la propria vita. E dopo tutti gli anni di esperienza che abbiamo accumulato sai chi sono le uniche persone che non riescono a coronare i loro sogni? Sono quelle persone che provano a fare tutto da sole, quelle che non ci provano nemmeno, quelle che aspettano il momento giusto che poi si sa non arriverà mai. Ma il momento giusto è ora perché aspetterai in eterno se pensi di svegliarti una mattina con la bacchetta magica che risolva tutti i tuoi dubbi e le tue incertezze. Quello che devi fare è prendere consapevolezza che le tue capacità e le possibilità sono infinite e che il metodo BSC è l'unica bacchetta magica che esiste. Ovviamente la vera magia sta nella formazione, nella costanza e nella determinazione, cioè tutto quello che avrai se deciderai di averci al tuo fianco. Siamo convinti? Quindi, se hai capito che il mondo agricolo è un mondo ricco di possibilità anche per te e se sei d'accordo con noi che è arrivato il momento di rivoluzionarlo per il bene di tutti e dell'intero pianeta, mettiti comodo, mettiti comoda, stacca una mezz'ora dalla frenesia e dalla noia di tutti i giorni e preparati a sognare. Per scoprire come possiamo affiancarti nel realizzare il tuo sogno e fare in modo che la vera sostenibilità rivoluzioni il mondo agricolo, clicca qui sotto per parlare con uno dei nostri consulenti esperti e formati appositamente per analizzare insieme a te la tua situazione e capire quali dei nostri servizi possono fare più al caso tuo. Se credi di non avere abbastanza tempo da dedicare a te stesso, a te stessa per realizzare il tuo sogno agricolo, sappi che il metodo BSC è la soluzione giusta per te perché il tempo è la prima variabile che abbiamo preso in considerazione e sulla quale abbiamo lavorato. Devi sapere che noi siamo riusciti a creare la nostra azienda agricola e iniziare a vendere ristoranti mentre lavoravamo nel bar dei nonni di Vale, mentre studiavamo all'università e mentre iniziavamo a costruire Ecosystem BSC. Se credi che per poter coltivare servano ettari e ettari di terreno perché hai visto sempre fare così, sappi che serve molto di più imparare a usare bene la testa, formarsi, di capire quali sono le coltivazioni più adatte a te e soprattutto come vendere il prodotto al giusto prezzo. Perché lo spazio non è un problema, guarda per esempio noi che solo con 1500 metri quadri di terreno in azienda agricola abbiamo ricavato uno stipendio che ci ha permesso ovviamente di vivere da soli nella nostra casa e che in quella stessa casa di soli 90 metri quadri senza terreno e senza balcone siamo riusciti ad autoprodurci tutto il cibo per una stagione per noi due praticamente, quindi capisci che lo spazio non è assolutamente un problema. All'inizio tutti intorno a noi ci scoraggiavano dicendoci che non ce l'avremmo mai fatta, gli agricoltori alla quale chiedevamo consiglio rimanevano vaghi per paura della concorrenza ed è anche per questo che noi non ti lasceremo mai solo, sia noi che tutto il nostro team saranno sempre al tuo fianco per aiutarti a raggiungere risultati concreti. Devi sapere inoltre che vendere a un prezzo superiore alla media, vendere al prezzo giusto non è casualità e non è nemmeno fortuna e non è nemmeno truffa, vendere ad un prezzo elevato prodotti di alta qualità sostenibili apporta valore e genuinità a tutto il mercato del cibo e a tutto il pianeta e per farlo non devi aspettare che qualcuno dall'esterno lo faccia per te, devi imparare a conoscere le giuste strategie di vendita. Clicca qui sotto per parlare con uno dei nostri consulenti esperti e formati appositamente per analizzare insieme a te la tua situazione e capire quali dei nostri servizi possono fare più al caso tuo. Fatti accompagnare da noi in questo bellissimo viaggio e scoprirai come è possibile anche per te realizzare il tuo sogno agricolo. Ci siamo già riusciti noi e i nostri oltre 400 studenti. Adesso è il tuo momento per inseguire i tuoi sogni e cominciare a coltivare la tua vita. Grazie a tutti.